Buona giornata amici da Massimo Foghetti oggi è venerdì 21 gennaio 2022 e il sole sorge alle 7.34 e tramonta alle 17.04 vediamo subito qual è il santo del giorno per portarci sotto la sua protezione e vediamo che è Sant'Agnese Sant'Agnese è una figura emblematica di purezza di castità visse alla fine del terzo secolo a Roma sotto l'imperatore Diocleziano fece voto all'età di 12 anni di rimanere sempre vergine casta e lo mantenne nonostante diverse proposte di matrimonio fu scoperta però come cristiana e finì sotto le persecuzioni i suoi tormenti sono veramente degni di un film horror perché fu condannata il giudice le combinò il taglio della gola come si faceva gli agnelli ma poi questa cosa non andò a buon fine allora cosa successe fu condannata a rogo ma in questo caso le fiamme non la lambirono allora il giudice gli fece tagliare la testa ma anche in questo caso il boia aveva dei tentennamenti finché alla fine non riuscì a spiccare il capo appunto alla ragazza veramente un supplizio al quale la ragazza insomma mantenne un atteggiamento dignitoso forte forte della sua fede e sul luogo del suo martirio fu eletta fu eretta al tempo di costantino una chiesa una bella chiesa che esiste ancora oggi sant'agnese e veniamo ora alle alle previsioni del tempo vediamo la cartina della regione marche arriva sulla nostra regione un'aria fredda che arriccherà piogge sparse fiocchi di neve su un'altezza superiore ai 400 metri dai 400 e 600 metri specie in appennino spireranno forti venti settentrionali le temperature sono in calo vediamo come sulla nostra provincia specialmente sulla costa alternanza tra sole e nubi comunque più nubi che sole prima di passare alle notizie che pubblicano i giornali il resto del carlino il corriere adriatico a livello locale volevo farvi vedere questa mattina la prima pagina del resto del carlino a livello nazionale perché c'è una foto che strappa il cuore ed è un papà che eleva in cielo innalza il cielo il suo bambino si chiama mustafa è un bambino nato senza braccia e senza gambe a causa di un attacco chimico che la madre subì quando era incinta ebbene questo bambino lo vediamo qui in questa fotografia sorridente verrà curato in italia c'è una ditta che fa delle protesi speciali che gli permetteranno di vivere una vita quantomeno un pochino più autonoma rispetto a quella che viveva in turchia comunque riuscirà a frequentare la scuola è una bella foto che dà un po di speranza ad un mondo pieno di problemi come poi evidenziano i giornali questa mattina e allora per vedere cosa dicono i giornali apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo come siamo subito immersi dalle polemiche si parla del futuro di aset e del sindaco massimo seri che ribadisce alle dichiarazioni che aveva fatto nei giorni scorsi l'assessore alle municipalizzate samuele mascarine non si va a legare con partner diversi ha dichiarato il primo cittadino priorità al sistema integrato dei servizi c'è una dunque una spaccatura all'interno della giunta il sindaco massimo seri la pensa in un modo e l'assessore la pensa in un altro massimo seri ieri ha diffuso un'articolata riflessione sul futuro di aset nella prospettiva delle prossime gare provinciali insomma non c'è solo il digestore che dovrà condizionare il futuro di aset ma ci sono anche degli impegni importanti per la gestione dei servizi che dovranno così fare riflettere sul fatto che aset debba presentarsi da sola a queste gare a cui parteciperanno anche ditte di dimensioni maggiori ma anche economicamente più forti oppure associarsi appunto con per esempio anche marche multiservizi o altre ditte insomma una diversità di vedute che lascia ancora inalterata ancora in evasa la prospettiva di una soluzione a fondo pagina un poster per la pace 180 opere presentate dagli studenti delle scuole medie fanesi Gandiglio, Paddalino e Nuti ad un'iniziativa organizzata dall'IOS Club è un'iniziativa annuale che desta particolari interessi da parte delle scuole ed è un'iniziativa di grande valore etico e civico Gli esercenti sono ancora in crisi, fate pagare meno acqua e rifiuti è la richiesta della Confcommercio avanzata all'amministrazione comunale di Fano che cosa chiedono Marco Arzeni, direttore dell'Associazione di Categoria e Barbara Marcolini che ne è presidente innanzitutto occorre alleggerire la bolletta dei rifiuti e poi occorre agire sull'autorità d'ambito per indurla ad abbassare il costo dell'acqua potabile garantire poi l'occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito per tutto il 2022 sono tre proposte che l'Associazione di Categoria fa all'amministrazione comunale per alleviare il peso di tutte queste incombenze sul settore del commercio che è oppresso ovviamente da tutte altre gabelle, da tutto il carovita dalla riduzione degli acquisti, insomma da tanti problemi che fanno abbassare sempre più le serrande e poi abbiamo una dichiarazione di un esponente dell'Ordine dei Medici della provincia di Pesaro Urbino, Giovanni Del Gaiso una dichiarazione con la quale esprime la sua delusione perché la Regione non ha inserito a bilancio preventivo per il 2022 il finanziamento dell'ospes pediatrico a Fano doveva essere localizzato nell'ospedaletto di Via Tazzoli ciò non è avvenuto nonostante, dice Del Gaiso, tutte le promesse, tutti gli entusiasmi sollevate dall'intenzione iniziale, almeno così pareva della Giunta a Quaroli e poi anche della Commissione Sanità l'amarezza dunque dell'Ordine dei Medici per il mancato finanziamento in bilancio e passiamo a Fossombrone dove c'è un'ordinanza più incisiva che appunto punisce coloro proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei loro piccoli amici è ora di intervenire il commento prevalente consigliata la distribuzione di kit con la solito paletta, secchetto e via dicendo a Monte Felcino c'è una particolare iniziativa che riguarda la sanità è un dibattito, un appuntamento per il pubblico fissato alle 18.15 al Centro Salute articolo 32 l'altezza di Ponte degli Alberi più precisamente il bivio della vecchia Flaminia con la strada che porta a Monte Felcino dove è appunto Ponte degli Alberi tema del dibattito la sanità che vogliamo diffusa partecipata prossima relatori saranno Dino Latini che è presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Antonio Sebastianelli che è il sindaco di Terre Roveresche e Alfredo Sadori che è presidente dell'impresa sociale cooperativa articolo 32 ONLUS si parlerà appunto di sanità la finalità principale è quella di presentare un modello di sanità di comunità insomma una sanità più diffusa a livello territoriale frontone frontone vive sul turismo in questo periodo invernale infatti sul Catria arrivano in 2500 sono coloro che amano sciare si replica per altre nevicate almeno così si spera i gestori sono soddisfatti la grande affluenza porta benefici economici a tutto il territorio in questo periodo di grave crisi e poi vediamo una scuola innovativa a Serra Sant'Abbondio con la didattica in natura si prepara l'appalto dell'edificio intercomunale per bimbi di nido e infanzia partiamo ora dalla Regione per poi arrivare sulla pagina di Pesaro dove vediamo che la Regione avrà ancora una settimana in giallo ma con la zona arancione che è vicino allora ci saranno limiti solo per i senza Green Pass parametri ancora non superati quindi la prossima settimana saremo ancora in giallo pronto però un nuovo DPCM con negozi esentati ancora ieri i ricoveri covid in area medica arrivavano al 28,9% la soglia massima e il 30% poi si passa in arancione e anche in terapia intensiva si è scesi al 19% dei posti letto occupati vediamo un attimo conti che dovrebbero fare slittare di un'altra settimana il passaggio della Regione appunto da giallo in arancione e poi vediamo come questa notizia a livello regionale interessa molto da vicino anche la nostra provincia trasporti più veloci l'anello ferroviario è all'ultimo sprint in questo caso abbiamo l'opera dell'assessore regionale Baldelli Francesco Baldelli studi di fattibilità per collegare Fabriano e Urbino e Fano attraverso la subapennini Chica Italica una visione complessiva basata su interconnessione intermodalità e sostenibilità e qui vedete questa mappa della nostra Regione dove ci sono dove sono delineate le linee ferroviarie e quelle da realizzare tra queste c'è la Fano Urbino che poi da Fermignano dovrebbe collegare Cagli Frontone e giungere a Pergola e Pergola poi si va a Fabriano e quindi ci sarà un collegamento anche verso Roma sono queste le prospettive che si delineano poi vediamo ancora girando le pagine dei giornali le nuove prospettive per quanto riguarda l'arretramento della ferrovia adriatica ed ora andiamo sulla pagina di Pesaro dove si parla degli Orti Giul questa piccola oasi sulle bastioni delle mura roveresche della città Orti Giul la scommessa del parco abbandonato che dovrà essere trasformato secondo il vice sindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini in un giardino delle delizie così intitola il Corriere Adriatico e l'assessore Vimini espone un piano per la valorizzazione di questo oas di questo giardino un giardino storico proprio gli Orti Giul un punto cruciale della rigenerazione urbana perché allo snodo tra diversi provvedimenti dice il vice sindaco infatti lì vicino c'è tutta la ristrutturazione del San Benedetto che dovrebbe dare un nuovo impulso a questa parte della città e poi c'è una T costituita da due assi viari quella tra via Castelfidardo e via Mazza che è l'asse più lungo e quella tra via Passeri e via Belvedere che della T è l'asse più corto insomma tutta una rigenerazione che dal Bastioni delle Mura si estende verso il corso cittadino e supera appunto con via Castelfidardo il corso verso il vecchio palazzetto dello Sport per una rigenerazione urbana più di qualità più qualificata il Comune inforca i pedali ideando il Museo della Bici nei sotterrani di Palazzo Gradari gestito dalla Fondazione Pescheria una nuova attrattiva per quanto riguarda la città di Pesaro che ha molti musei l'arretramento della linea tra punti di forza e criticità e questo è l'articolo che vi avevo annunciato per quanto riguarda l'arretramento della linea ferroviaria dalla costa verso la periferia delle due città almeno si spera in questo caso si parla di Pesaro ma il sindaco Massimo Seri spera anche per Fano e poi lo sperano anche i sindaci di San Costanzo Mondolfo eccetera ferrovia adriatica Baldelli ha inviato al Ministero i pareri dei comuni costieri con la velocizzazione a 200 km all'ora a 30 minuti in meno sulla tratta e lo scorso 22 dicembre l'assessore regionale alle infrastrutture ha riunito tutti i comuni costieri per raccogliere le osservazioni sul tracciato da inviare al Ministero a parte le osservazioni c'è una determinata convinzione perché quest'opera si faccia insomma è un'opera consistente costerà parecchi miliardi però insomma è una cosa che si persegue da diverso tempo e poi c'è la Fano Grosseto non solo la ferrovia ma anche la viabilità su gomma Fano Grosseto ha quattro corsie i tempi di percorrenza ridotti del 21% invece che due corsie come il governo avrebbe ideato di fare dunque non solo le ferrovie il nodo porto aeroporto interporto di Ancona tutto compreso nella distanza di appena 30 chilometri che costituisce un unicum nel panorama nazionale la strategia della regione secondo quanto evidenziato sempre dall'assessore Baldelli propone la retratezza infrastrutturale e prevede anche il potenziamento della rete stradale la Fano Grosseto ha quattro corsie dichiara l'assessore Baldelli è il nostro progetto più significativo per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino e qua abbiamo un altro assessore della nostra provincia Mirco Carloni che ha messo a disposizione 150 milioni a favore delle imprese non posso intervenire per ridurre le bollette ha detto Carloni all'assessore pesarese Franco Ellucci ma posso però mettere a disposizione queste risorse per dare un respiro di sollievo alle ditte che sono in crisi e poi vediamo le pagine di cronaca oggi sul Corriere Adriatico colpi in casa all'ora del tramonto i proprietari sono fuori e i ladri razziano sono in questo caso due furti uno in una casa dove i ladri hanno rimediato 600 euro in contanti poi hanno sportato dei preziosi monili d'oro bracciali orecchini e collanine per un valore di 5 mila euro e poi c'è un furto tentato mercoledì pomeriggio ai danni della HM in centro storico gli addetti alla sicurezza della catena di abbigliamento hanno visto entrare un gruppo di ragazzi sulla ventina volti su cui il personale aveva dei sospetti infatti nei giorni precedenti erano spariti dei giacconi questa foto qui a fondo pagina evidenzia un furgone che si è incastrato sotto un ponte si vede che l'autista non aveva calcolato bene l'altezza del suo veicolo Marche Nord arrivano più infermieri rafforzate anche le cure ambulatoriali c'è stato un confronto con i sindacati i quali chiedono sempre più personale non spostamenti di quello in servizio da un settore all'altro domani domenica tornano gli open day vaccinali a Pesaro Fano e a Urbino siamo a Vallefoglia a Vallefoglia il sindaco Ucchielli ha stabilito un rapporto molto stretto con la finanza per quanto riguarda l'indagine sulla evasione si unisce questa iniziativa ai protocolli già sottoscritti dalle amministrazioni di Pesaro Fano e Urbino e infine siamo a Urbino Contamination Lab gli studenti formati per essere imprenditori è un percorso innovativo quello che illustra Francesca Maria Cesaroni responsabile del coordinamento scientifico un percorso innovativo della università per educare i ragazzi alla cittadinanza attiva e consapevole e ora passiamo al resto del Carlino vediamo subito la pagina di Fano in questo caso e vediamo l'apertura ecco in questo caso si parla di alberghi alberghi che sono senza turisti però qualcuno riesce a così tenere aperto la propria struttura grazie ai lavoratori che giungono nel nostro territorio per lavorare con le ditte che sono presenti e l'assessore alle attività economiche Etienne Lucarelli fa il punto arrivano in città dipendenti di aziende collegate alle nostre sono operai e persino rappresentanti operai anche cantanti pensate cantanti perché in questi giorni al teatro della fortuna si stanno facendo le prove per l'italiana in Algeria e quindi anche questo porta alcune presenze negli alberghi della città e invece questa notizia è importante quella che pubblica il resto del Carlino oggi perché si rifanno vive le prospettive di così di qualificazione di un'area molto degradata quello dell'ex zuccherificio in questo caso si sarebbero già mosse alcune grosse società legate all'energia anche perché sono previsti grandi stanziamenti legati al PNRR e l'idea qual è? L'idea è quella di sfruttare l'idrogeno alcune industrie della città e non solo si sarebbero recate proprio in questi giorni in regione dicendosi interessate a creare una specie di idrogeno valley insomma una serie di produzioni che riguardano questo elemento e un altro fattore interessante è che si sarebbero fatti avanti tutta una serie di imprenditori legati alla confindustria e che escono dalla filiera dell'ex Snam e d'ora Saipem e tutto quell'indotto che era collegato appunto a questa grande industria a questa grande società milanese che anche lei tira qualche volta i remi in barca e quindi questo indotto si rivolge da un'altra parte anche il resto del Carlino pubblica le dichiarazioni del sindaco sulla questione di Aset che spacca il centro-sinistra il sindaco Massimo Seri si schiera con quella parte della maggioranza che vuole dialogare con la pesarese Marche Multiservizi e a fondo pagina l'articolo che riguarda le rimostranze della Coffcommercio per quanto riguarda il caro vita e l'appello rivolto all'amministrazione comunale perché intervenga con aiuti alle aziende in difficoltà passiamo alla Val Cesano in 18 giorni positivi triplicati in Val Cesano Covid il comune con la percentuale più alta di soggetti attualmente colpiti e San Costanzo al secondo posto c'è Mondolfo e nella città dei bronzi Pergola ieri si è tenuta una doppia seduta di vaccinazioni quella del camper di regione Asur e del Lab una notizia di cronaca un trentenne assedia una diciassettenne con fiori ed sms ed è condannato era un'amica di famiglia che non ne voleva sapere di quell'uomo il quale dovrà risarcire per questa persecuzione 6.500 euro ad Urbino lavori alla data il museo della grafica già trasloca l'arrivo di 3 milioni di euro per completare la ristrutturazione di questo grande complesso ha fatto ripensare la strategia per la nuova esposizione e quindi il museo della grafica che sembrava ormai insediato definitivamente alla data non si farà più al suo interno sono al vaglio altre soluzioni anticipa Giuseppe Balduini anima della galleria Albani ma del museo la data per il momento non se ne parla ha dichiarato e qua abbiamo una dichiarazione dell'onorevole Alessia Morani sul commissariato di Urbino il commissariato deve rimanere in centro ha detto l'onorevole la deputata del PD torna sul problema della sede e chiederà ulteriori chiarimenti al Viminale Ferminiano cantiere aperto al via nuovi lavori tutti i comuni in questi giorni evidenziano il programma il bilancio dei lavori pubblici che intendono fare nell'anno in corso ebbene anche Ferminiano ha le sue prerogative intanto l'inaugurazione del campetto polivalente di via Pergolesi è diventata l'occasione per illustrare i nuovi interventi e i bandi in concorso fondi sono quelli che arriveranno dal PNRR il sindaco progetti per la scuola dell'infanzia e l'asilo nido e la mensa intanto Emanuele Feduzzi dopo oltre 30 anni si è rimessa mano alla zona dell'ex LAR con una nuova illuminazione a pecchio l'entroterra conquista la Tirreno Adriatico questa grande gara sportiva che animerà la nostra regione sabato 12 marzo ci sarà la tappa pecchio Carpegna della celebre corsa in arrivo sportivi e media da tutta Europa quindi la nostra regione al centro dell'attenzione sportiva di una grande zona che supera i confini nazionali una giornata di sport di festa e anche di grande emozione per tutti gli sportivi ma non solo della nostra provincia infatti sabato 12 marzo si svolgerà questa iniziativa di grande risonanza sportiva basta numero chiuso per studiare medicina è un appello che lancia il consigliere regionale della Lega e Medico Giorgio Cancellieri basta numero chiuso per studiare medicina e siamo in conclusione prima però voglio farvi notare qualche notizia di sport la leggiamo sul resto del Carlino visse domani ci sarà una battaglia Teramo ci metterà tanto agonismo Albenelli finalmente possiamo dire torna il campionato la partita inizierà alle 14.30 Banchini avverte i suoi e presenta Sanogo lo seguivamo da tempo ad un mese dall'ultima partita pensate si torna finalmente in campo Albenelli ed ora abbiamo il Teramo che è l'avversario appunto della Vis vediamo cosa si dice anche dell'Alm dell'Alm Fano prova il difensore under dell'Imolese Radò ora caccia al centrocampista over ed è una intervista al direttore sportivo del Fano Enzo Agliano che cerca un centrocampista over e concludiamo con il basket il basket lo vediamo qua in questo articolo dove corredato da diverse fotografie Carpegna Prosciutto travolta a Brescia 61 punti subiti nel primo tempo Pesaro mai in partita paga la stanchezza accumulata nel match contro Milano dove appunto aveva vinto lo scontro e Jones si guarda buona parte della gara dalla banchina si salva solo Moretti che tenta di dare ritmo Biancorossi colpiti e affondati già nel primo quarto timida reazione nel terzo insomma una partita da dimenticare il Brescia 110 Pesaro 78 e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi dà appuntamento a domani e per le notizie del giorno vi ricordo occhio alla notizia di questa sera alle ore 23 condotta da Simona Zonghetti e questo per il momento è tutto a risentirci a domani a domani a domani di questa Grazie a tutti